Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo sfogliare con voi il catalogo Bottega Verde tutto dedicato al Natale. Sono andata a fare un giro in centro nella mia città, sono passata davanti al negozio Bottega Verde, ho visto il catalogo e mi è sembrato veramente molto carino. Quindi ho pensato di condividerlo con voi perché magari posso darvi delle idee regalo. Quindi se dovete fare un piccolo regalino oppure anche un regalo un po' più grande perché ci sono delle cose veramente interessanti, questa può essere una delle tante idee. Poi a me Bottega Verde piace tantissimo, io di solito mi oriento sempre anche su Bottega Verde, non solo su quella ovviamente, però quando faccio i regali qualcosa di Bottega Verde prendo sempre. Inoltre tutti gli anni mettono le linee natalizie, quest'anno abbiamo emozione dei sogni, magia delle stelle, stupore della neve e tutte e tre hanno le loro essenze ovviamente ma poi lo vediamo bene quando sfogliamo il catalogo. Quindi insomma mi faceva piacere condividerlo e magari così in qualche modo vi darò anche qualche idea in più per i regali di Natale. Però basta con le chiacchiere e vediamo subito il catalogo. Mi sono messa qui sul tavolo perché stiamo più comodi, andiamo subito a vedere quello che c'è. Intanto c'è l'iniziativa solidale, quindi comprando questa shopper riutilizzabile e pieghevole, questa è la versione piegata, che costa 2,90 euro, potrete diciamo aiutare la missione Bambini, che è un'associazione che sostiene diciamo i bambini in difficoltà in Italia, quindi con 2,90 euro, 50 centesimi andranno poi per questa iniziativa. Qui abbiamo invece le carte regalo, 10, 25, 50 euro, questi sono sempre dei jolly che ritengo sempre degli ottimi regali. Poi Bottega Verde quest'anno ha pensato alle tre edizioni natalizie, è una cosa che fa tutti gli anni, però diciamo che ogni anno cambia la tipologia, cambia la linea. Quest'anno c'è emozione dei sogni, magia delle stelle e stupore della neve, in particolare emozione dei sogni all'arancia e vaniglia, magia delle stelle e alpaciuli e bergamotto e stupore della neve, vischio e cannella. Qui abbiamo i primi cofanetti che si basano appunto su queste tre edizioni natalizie. Ci sono tutte e tre, costano 13,99 euro, abbiamo un bagno doccia da 250 ml e un latte corpo da 150 ml, quindi insomma per 13,99 euro secondo me è un bel regalo. Poi qui abbiamo una confezione leggermente diversa, perché vedete qua ci sono le tre versioni, perché qua c'è un kit con crema a mani, saponetta e stick per le labbra e costa 14,99 euro. Poi c'è questa confezione ad alberello, che mi sembra carina, costa 15,99 euro, contiene un burro corpo, una saponetta e una candela. Quindi per gli amanti della candela sicuramente è una bella idea. Poi se volete, e io credo che è una cosa che andrò sicuramente ad acquistare, potete prendere solo la crema a mani nelle tre versioni per 2,49 euro. Quindi stupore della neve, emozione dei sogni e magia delle stelle, senza la saponetta, senza la candela, senza il burro corpo, ma soltanto la crema per le mani. Io credo che me la comprerò quest'anno nelle tre versioni. Qui abbiamo un bagno doccia maxi, perché sono 750 ml per 9,99 euro, sempre nelle tre versioni natalizie. Qui invece abbiamo un diffusore con i bastoncini e con la profumazione, ovviamente, costa 17,99 euro, ed è molto carino perché sul vetro, non so se riuscite a vedere, c'è il nome proprio della linea natalizia. Quindi in questo caso hanno messo stupore della neve nella foto, però qui abbiamo anche gli altri due, emozione dei sogni e magia delle stelle. E mi sembrano molto carini anche questi. Qui abbiamo una confezione leggermente più grande, costa 19,99 euro, sempre nelle tre versioni. In questo caso abbiamo bagno doccia, latte corpo e saponetta. E sono, secondo me, delle belle idee. Qui abbiamo una cosa leggermente più grande, che costa 24,99 euro, perché oltre al bagno doccia al latte corpo, aggiunge lo stick per le labbra e la crema per le mani. Quindi anche questa può essere una cosa carina, una bella idea. Poi qui invece abbiamo una cosa diversa, che si allontana dalla linea natalizia tipica, ed è dedicata alle mani, perché abbiamo due creme mani, quindi una coppia praticamente di creme mani in tre versioni diverse. La prima è carité e olivo, la seconda è olivo e avena, e poi c'è argan e mandorle, e costa 9,99 euro. Poi Bottega Verde ha pensato anche ai bambini, perché ci sono queste due confezioni che sono molto carine, che comprendono un bagno doccia alla vena e le calze antiscivolo, ovviamente nella versione rosa o azzurra, a seconda appunto del destinatario del regalo. E costa 11,99 euro. Qui invece abbiamo un'altra confezione che è veramente carina, perché ha la pallina da appendere all'albero di Natale, bianca, con la scritta rossa Merry Christmas. Questa costa 12,99 euro, ha la crema mani, lo stick per le labbra e la pallina di Natale. Poi se non volete la pallina di Natale, ma qualcosa di un po' più utile da utilizzare magari per tutte le feste di Natale a colazione, qui c'è la tazza. È una tazza particolare perché è una tazza green, praticamente fatta con fibre naturali di bambù e mais, quindi rispetta l'ambiente. Questo è un cofanetto che comprende la crema mani e la tazza, all'argan, alle mandorle e al karité, e costa 12,99 euro. E qui ci sono le tre confezioni. Poi qui abbiamo delle altre idee regalo molto carine. Abbiamo le mandorle, bagno doccia e crema mani, 9,99 euro. Che è questo, questo qua in alto. Poi abbiamo questa idea regalo qua in fondo, che sono bagno doccia, latte corpo, crema mani, sempre alle mandorle, per 19,99 euro. Poi, se non vi piacciono le mandorle, potete scegliere qualcosa all'argan, bagno doccia, ad esempio questo, con la crema per le mani, a 9,99 euro. Poi avete questa possibilità, bagno doccia, latte corpo, crema mani, a 19,99 euro. Oppure latte corpo e la crema mani, per 15,99 euro. Questi sono tutti e tre all'argan. Poi ci sono queste idee qui, che sono nel cestino di paglia, quindi un cestino intrecciato. Questo anche, secondo me, è molto carino, perché poi il cestino comunque rimane, può essere riutilizzato, magari in bagno, per andare ad inserire tutti i vostri prodotti. In questo caso abbiamo carité, argan, olivo e mandorle, costa 19,99 euro e comprendono bagno doccia e latte corpo. E ovviamente vi rimane il cestino, come vi dicevo prima. Poi qui abbiamo una scatola, una valigetta, diciamo così, media, che è un pochino più carina, perché vi rimane poi questa scatola, che è di latta. E secondo me può essere una bella idea regalo. Costa 32,99 euro e l'avete in quattro versioni. Olivo, mandorle, karité e argan. E comprende bagno doccia, crema mani, latte corpo e saponetta. Poi c'è anche la valigetta maxi, che è ancora più grande, costa di più, perché costa 59,99 euro, quindi questo è proprio un bel regalo un po' costoso. Però comprende tante cose, bagno doccia, crema mani, latte corpo, deodorante profumato, gel detergente viso, eau de toilette, stick per le labbra. Questo è proprio un kit completo per il corpo, secondo me, un bellissimo regalo. Poi qui avete invece un cofanetto, che comprende un bagno latte, una crema mani, un burro corpo, un olio profumato e una saponetta, e costa 39,99 euro. E avete la versione mandorle, che è questa, e argan, quindi le due profumazioni. Il cofanetto, invece, medio, che è questo qua, questo, che costa 26,99 euro, all'argan, e comprende bagno doccia, burro corpo, lo scrub per il corpo, e ovviamente la bella confezione. Qui cambiamo essenze, perché questa volta abbiamo pepe rosa, vaniglia, e poi la rosa. Sono delle profumazioni che a me piacciono di Bottega Verde. Questa, ad esempio, è un'idea per le mani. Abbiamo due creme mani, nella versione vaniglia nera e petali di vaniglia, oppure pepe rosa e rosa, e costa 9,99 euro. Qui, invece, abbiamo, ad esempio, un altro kit, che costa 13,99 euro. Sono questi due, hanno sempre la pallina di Natale da appendere, che secondo me è veramente carina. La crema mani, lo stick per le labbra, la pallina di Natale, nella versione vaniglia nera e nella versione al pepe rosa. Qui abbiamo, poi, delle altre confezioni che sono veramente particolari, perché, ad esempio, la prima ha il latte corpo e la crema mani, al pepe rosa, alla mela e spezie, la vaniglia nera e i petali di vaniglia, e costa 15,99 euro. Poi abbiamo questa, invece, che è petali di vaniglia, costa 13,99 euro, quindi costa un pochino meno, e al bagno doccia e il latte corpo. Queste, secondo me, sono veramente belle. Tra l'altro, mela e spezie, io l'anno scorso avevo preso il bagno doccia, e devo dire che era veramente buono, sembrava di avere una torta sotto la doccia, però era veramente buono. Poi abbiamo questa confezione, che comprende la tazza, che è quella che vi ho fatto vedere prima, la tazza, diciamo, fatta con materiale che rispettano l'ambiente. Abbiamo il cofanetto per le mani, col bagno doccia, la crema mani, la crema corpo, il lava mani, lo stick per le labbra e la tazza, sia al pepe rosa, che è questo, sia alla vaniglia nera, che costa 42,99 euro. Qui abbiamo altre confezioni meravigliose, abbiamo questa, che è enorme, perché vedete quante cose ci sono. Costa 59,99 euro, ma ha davvero tante cose, alla profumazione pepe rosa. Se no, se volete qualcosa di più piccolo, c'è la valigetta media, che è questa, nelle versioni vaniglia nera, pepe rosa e petali di vaniglia, che comprende bagno doccia, crema mani, crema corpo e lava mani, e costa 32,99 euro. Se no, abbiamo poi questa, che è ancora più piccola, perché costa 17,99 euro, ha soltanto il bagno doccia e la crema corpo, però ha una bella scatola di latta, e comprende pepe rosa, che è questo qui, poi avete la vaniglia nera, mela e spezie, e cioccolato. Secondo me, il bagno doccia, ad esempio, al cioccolato è fantastico. Adesso pensiamo anche un pochino ai nostri uomini, cerchiamo di farci venire delle idee regalo, anche per loro. Qui abbiamo, ad esempio, alla profumazione terre speziate, che lo mettono come novità, uno shampoo doccia, un bagno doccia, e costa 11,99 euro. Poi, sempre allo stesso prezzo, in versioni diverse, abbiamo il verde paciuli e il legno marino, sempre con lo shampoo e il bagno doccia, e qui abbiamo il cedro selvaggio e il blu d'acqua. Quindi sono tre profumazioni, che secondo me, per un uomo, sono comunque buone. Questa è una cosa che mi piace moltissimo, perché ha all'interno anche le calze, che sono comunque dei regali, che secondo me, per gli uomini, sono sempre adatti, perché un paio di calze, belle, eleganti, secondo me, sono abbastanza apprezzate. Abbiamo il terre speziate, verde paciuli e il blu d'acqua, sempre con shampoo doccia e calze. Ovviamente cambia il colore delle calze, in base alla profumazione, perché quello di terre speziate ha sul nero e marrone come colore, invece questo qui è verde, e queste sono blu, un po' più scure. Comunque comprende queste due cose, costa 13,99 euro. Se invece preferite qualcosa di più sobrio, diciamo così senza andare a prendere delle calze, per 18,99 euro c'è questo, l'eau de toilette e lo shampoo doccia. E avete la possibilità di scegliere la barberia toscana, il nero d'ambra e il legno marino, che sono comunque delle belle confezioni. Mi piace molto questa qui del legno d'ambra come scatola, devo dire che se io fossi un uomo, sceglierei questa probabilmente, però non ho idea di come sia la profumazione, sono sincera. Qui abbiamo una cosa un pochino più corposa, un pochino più bella, costa 36,99 euro, abbiamo lo shampoo doccia, l'eau de toilette, l'emulsione dopo barba e le calze. Quindi queste sono più carine. E abbiamo la possibilità di scegliere cedro selvaggio, nero d'ambra e barberia toscana. Anche queste con delle bellissime confezioni. Vedete qua c'è la macchina, qua c'è una moto, sono veramente belle secondo me. Anche queste qua, queste scatole, sono particolari perché queste hanno una cosa in più. Hanno il bagno doccia, l'emulsione dopo barba, costa 19,99 euro, abbiamo le terre speziate, il legno marino, il nero d'ambra e il cedro selvaggio. Ma la cosa in più che dicevo, è una, diciamo, una dicitura che c'è sopra la scatola e che secondo me rende il regalo carino, simpatico, mettiamola così. Perché le terre speziate, come potete vedere qua, viene nominato viaggiatore eccentrico. Quindi magari anche un po' in base alla personalità dell'uomo al quale andate a regalarlo, potete scegliere una di queste scatole anche per la scritta che c'è sopra. Questo ad esempio al legno marino è l'inguaribile romantico, poi c'è il nero d'ambra che è l'incantevole rubacuori e il cedro selvaggio che è l'affascinante giramondo. E secondo me sono carine queste cose perché strappano un sorriso mentre aprite i regali. Diciamo che gli uomini ricevono tanti dopo barba e se all'ennesimo dopo barba sulla scatola magari si trovano una frase carina tipo quella, secondo me strappa un sorriso, ci si fa due risate ed è comunque una cosa carina. Poi andiamo avanti, adesso torniamo a noi donne. Qui abbiamo delle bellissime creme per il viso nella scatola di latta. Eccola qui, queste sono le scatole. I prezzi sono diversi perché sono diverse le creme. Ad esempio questa effetto lifting che sarebbe questa qui è una crema viso anti-età effetto lifting immediato per pelli normali o secche costa 12,99 euro. Poi c'è questa che è la crema viso anti-età che sarebbe poi questa qui che costa 13,99 euro e ha un effetto elasticizzante per pelli normali o secche. E poi c'è questa che secondo me ha un packaging fantastico con questo tappo rosso metallizzato che è una crema Goji Perfect che è un trattamento viso anti-rughe intensivo anti-ossidante per pelli normali o secche costa 20,99 euro. Queste sono delle creme favolose. poi ci sono queste idee qua ad esempio questo è il box prestige che praticamente contiene la crema viso anti-età per pelli normali o secche la crema viso notte anti-età sempre per pelli normali o secche a 24,99 euro. Ci sono queste due con il packaging e con il tappo dorato che è comunque carino. poi abbiamo gli estratti di bellezza che sono queste due confezioni qua costa 20,99 euro però ci sono delle differenze perché una è per pelli normali e una è per pelli miste. Ad esempio questa è per pelli normali e abbiamo la crema fresca idratante lo scrub maschera 2 in 1 la maschera in tessuto idratante l'acqua micellare. e invece questo è per pelli miste ed è una crema gel opacizzante uno scrub maschera 2 in 1 la maschera nera in tessuto detox l'acqua micellare. Le profumazioni sono diverse perché in questo caso abbiamo la mela verde e il kiwi invece in questo caso pesca e albicocca quindi anche un po' in base alla profumazione magari uno può scegliere un regalo piuttosto che un altro. Qui abbiamo il make up ci sono delle cose molto luccicose molto dorate molto natalizie ad esempio questa bustina tutta dorata questa pochette così con tutti i glitter costa 12,99 euro all'interno c'è il mascara volume extra black e la matita a occhi intensa neri tutti e due sia mascara che matita poi abbiamo il gold kit che praticamente contiene uno smalto per unghie color ribes uno smalto per unghie oro glitter e poi una lima per unghie tutta dorata se no abbiamo il red kit che contiene lo smalto per unghie color ribes quindi un rosso un rossetto a lunga tenuta matt che è un rosso glam e poi abbiamo la lima per unghie rossa glitterata quindi in questo caso è questo qua la bustina costa 12,99 euro questo qui con la limetta dorata 9,99 euro questo costa 13,99 euro perché c'è un rossetto quindi costa un po' di più poi qui abbiamo delle palette abbiamo un body mist abbiamo un illuminante profumato un mascara adesso vi spiego tutto nel dettaglio abbiamo ad esempio il body mist nelle due versioni emozione dei sogni e magia delle stelle costa 8,99 euro poi abbiamo le due palette per occhi con estratti di rosa costano 12,99 euro uno è più sui colori golden nude uno è più sui colori golden rose poi abbiamo l'illuminante profumato che è questo qui con estratti di gelsomino che costa 9,99 euro poi abbiamo un mascara maxi volume effetto ciglia vertiginose con acqua di camomilla 9,99 euro e poi per 12,99 euro abbiamo un olio illuminante setificante per corpo e capelli con monoidi tahiti a me questo ispira per i capelli soprattutto mi piacerebbe provare magari sulle punte e vedere se davvero illumina un po' i capelli perché io lo sto cercando un illuminante per capelli quindi adesso vedo un po' cosa fare poi qui abbiamo un'altra bella iniziativa che a me è piaciuta devo dire che è una cosa che non avevo neanche mai sentito nominare ossia questa collanina o braccialettino a seconda di quello che acquistate che nascondono un cuore profumato di gesso per mantenere a lungo la fragranza io questa cosa non la conoscevo non ne avevo mai sentito parlare se voi acquistate un profumo da donna potete avere per 4,99 euro in più la collana oppure il bracciale è una cosa particolare secondo me ci sono i due profumi che in realtà sono eau de toilette quindi forse leggermente diverso dal profumo classico però costano 19,99 euro gelsomino notturno e camelia d'inverno e poi come vi dicevo potete aggiungere 4,99 euro e avere la collana e il braccialetto qui abbiamo per 16,99 euro questa bellissima confezione è tutta dorata si tratta di una raffinata e romantica emozione floreale quindi una sinfonia creata per sublimare la dolcezza naturale di ogni donna autentico omaggio alla femminilità è un eau de toilette io stavo leggendo quello che c'è scritto qui non sono cose che sto dicendo io c'è scritto sul catalogo però credo che sia anche questa una bella confezione regalo e come ultima cosa nella pagina finale del catalogo quindi sul retro abbiamo altre cosine un po' più piccole che però secondo me sono delle idee carine abbiamo una crema viso argan e carité quindi le due versioni questa è la confezione costa 7,99 euro se no molto carina abbiamo la pallina di natale per 9,99 euro che contiene la crema mani e lo stick per le labbra ma poi vi rimane anche la pallina e ci sono le tre versioni stupore della neve emozione dei sogni magia delle stelle altrimenti volendo spendere ancora meno potete prendere per 3,49 euro questa confezione qua che ha forma di pallina dell'albero però poi in realtà è una confezione di plastica perché l'anno scorso questa l'avevo presa avete stupore della neve magia delle stelle emozione dei sogni è un bagno doccia mini da 100 ml che può essere anche da viaggio insomma comunque è carino e poi questo astuccio auguri che comprende una coppia di stick per le labbra avete magia delle stelle e stupore dei sogni oppure emozione dei sogni e stupore della neve ne hanno fatto solo due 6,99 euro insomma questi sono tutti i prodotti natalizi che Bottega Verde propone io credo che siano veramente delle belle idee regalo c'è qualcosa che costa di più qualcosa che costa di meno però insomma le ritengo comunque delle bellissime idee avete visto quante idee regalo ci sono in questo catalogo ce ne sono veramente per tutti i gusti e di tutti i prezzi sia che vogliate spendere poco sia che magari siate disposti a spendere un po' di più a me Bottega Verde è sempre piaciuto poi quando arriva il Natale devo dire che mi piacciono anche le collezioni che vengono proposte quindi sicuramente sono di parte però insomma mi faceva piacere condividere il catalogo per darvi qualche spunto in più fatemi sapere nei commenti se voi acquistate prodotti Bottega Verde io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme a presto sempre Grazie.